buongiorno a tutti siamo in punta alla sciovia rio nero che vedete alle mie spalle siamo a quota 2.619 metri e oggi andiamo a fare una delle mie piste preferite della via latte alla pista 21 a san sicario arriveremo fino al paese di san sicario la quota di 1.708 metri e faremo una pista nera rossa e blu in sequenza lunga più di tre chilometri e mezzo sarà una bella sciata quindi incamminiamoci eccoci stiamo partendo la pista 21 per la prima parte è una pista nera è una pista molto bella tutta rivolta al sole anche molto larga però è leggermente impegnativa quindi non adatta proprio a tutti i livelli però i più esterni si possono proprio divertire in fondo al primo muretto la pista diventa più pianeggiante si restringe da qua la pista diventa una rossa si allarga notevolmente in fondo a questo pianetto noi giriamo verso destra e da qua la pista diventa una più vedete come bella larga inizia però a essere un po tutta all'ombra ricca di cambi dipendenza vedete che ci sono dei nusconi che ci sono da lavorare e da ammortizzare con le gambe in fondo a questo pianore esattamente qua incrociamo il video con la pista 18 fra i teleolimpica ma noi teniamo la destra e proseguiamo sulle 21 blu guardate che bella qua la pista ha una pendenza non troppo impegnativa quindi si possono girare veramente dei bellissimi curdoni guardate che bella qua siamo in mezzo al bosco questo tratto esattamente qua troverete il video per la pista 18 ma noi continuiamo sempre dritto perché la 21 viaggia parallelamente alla pista olimpica 18 sulla sua destra e arriva dritta da dal punto alla punta del rio nero fino al paese di san sicario vedete che qua la visibilità è diminuita perché siamo entrati nella parte più fitta del bosco però la neve è veramente bellissima in questo tratto viene molto bene e molto soffice quindi possiamo lasciare andare vissi all'ennesimo video con la pista 18 noi continuiamo a tenere a destra tra un po' arriveremo a vedere la seggiovia a devi la incontreremo sulla nostra sinistra eccola la noi continuiamo sulla destra vedete che è una pista ad eccezione della prima parte che non era una pista molto facile molto larga molto divertente e soprattutto è lunghissima è più di tre chilometri e mezzo siamo alle fasi finali della pista ma ovviamente la velocità si riduce notevolmente attraversiamo la seggiovia devi e siamo arrivati a destinazione a san sicario paese eccoci qua siamo arrivati a san sicario paese alla quota di 1708 metri abbiamo appena percorso la pista 21 nell'area di san sicario una bellissima pista che corre parallela alla pista 18 olimpica è una pista lunga più di tre chilometri e mezzo nella prima parte una nera e successivamente c'è un tratto rosso difficoltà media e poi da lì fino alla fine è una pista blu quindi difficoltà facile è una pista bellissima vi consiglio di venire a provarla ciao a tutti